Allora, un amico mi ha scritto... Dio santo, scusate, questa è una peracotta, la mangio dopo, leviamola, ok. Mi ha chiesto, mi ha chiesto, fai un video sulla cordatura del rullante, c'è la perla? No, non è una perla, è proprio un video nel quale suono e spiego un po' la cordatura, credo che anche in qualche perla ci sia l'argomento, forse però sul rullante non c'è. Di fatto può essere la cosa più immediata del mondo, altresì potrebbe essere complicato, perché a volte la cordiera risuona con il tom e in quel caso basta allontanare un po' il tono del rullante da quello del tom, è chiaro che se a me piace il tom con quel suono lì e il rullante con quel suono là e però i due cozzano, insomma devo aggiungere a un compromesso, o abbasso o alzo un po' il tom oppure alzo o abbasso un po' il rullante, altrimenti la grattugia della cordiera ci sarà sempre. Ma, a parte questo, dobbiamo prima di tutto rispettare la misura del rullante e anche l'essenza, l'essenza a linea, oppure se è in metallo, se è in alluminio, se è in rame e quanto è profondo il rullante. 3,5 non potrà suonare pancioso, 4,5 o 5,5 non potrà suonare brillante come il 3,5, poi tutto si può fare, metti su una bella pelle, però snaturare quello che è la natura, appunto, del rullante che abbiamo di fronte è un'incongruenza. A me piacciono i rullanti mediamente panciosi, indipendentemente che io usi l'acero o la betulla o il faggio o l'alluminio o l'acciaio nichelato, ho tutti i rullanti da 4,5 o 5,5, beh, insomma, quelli alti così, insomma, quelli standard, non troppo bassi e non troppo cassoni. Pelli, io uso Evans e metto sul rullante o G1 o G2, la G2 è una pelle un pochino più spessa, quindi con meno armonici, la G1 invece ne ha un po' di più. Quando metto l'una o l'altra? Quando mi gira, come quando metto la maglia blu, quella che vedete sempre in questi video, oppure metto la maglia nera, cioè, quando mi va ne metto una o l'altra. Pogniamo G2, quella un po' più spessa, è già un po' gnucca di suo. Se io volessi un suono di un rullante brillantissimo, allora, primo, non metterei su con la pelle, e secondo, torniamo al punto primo, cioè, se hai un rullante basso, non potrà mai suonare ciccione, se hai un rullante. Di sicuro accordo tendendo molto la pelle sotto, quella risonante, perché è quella che è a contatto con la cordiera. La cordiera io non la tiro mai allo spasimo, ogni tanto arrivo in conservatorio, apro la mia aula, prima delle lezioni, metto a posto il compiuto e tutto, vado sul rullante, la madonna, ma chi cazzo l'ha usato? Cioè, con la cordiera tiratissima, che non ha senso. È chiaro che poi tutto è relativo. Roy Haynes ha sempre usato un rullante alto così, con la cordiera tiratissima. Buddy Rich e Louis Belson usavano i rullanti più grossi, con la pelle tiratissima e la cordiera tiratissima. Quindi, poi, i gusti sono gusti. Io, personalmente, non voglio esasperare il contatto della pelle con la cordiera tirandola moltissimo. Voglio che ci sia sempre un po' di eco. Eco nel senso, non la cordiera che fa... ma una cordiera che fa... un pochino più morbida. La pelle sopra è quella che io controllo maggiormente. Posto che la pelle sotto è tiratissima dappertutto, che la cordiera è tirata, ma non troppo, sopra io cerco un po' d'aria che circola sul rullante. Non mi piace il rullante con la pelle tiratissima sopra. Questo vale per me, in quanto poi, durante un concerto, 50% uso le bacchette, 50% uso le spazzole. Ciò succede a chiunque suoni jazz, ma proprio per questo io voglio avere un'accordatura che, con le spazzole, crei un bell'attacco di nota, ma che abbia anche un fondo un pochino scuro. Con le bacchette mi piace altresì quel suono. Da parte i gusti personali, in poche parole, io direi che la condizione migliore per far suonare il rullante che usate nel modo migliore è di avere una bella aderenza a pelle risonante e cordiera, quindi pelle sotto, ben tirata. E quella sopra, io non sto lì, non ho mai, vi confido che, non ho mai accordato i tamburi e quindi seguendo la griglia diametralmente opposta, il tirante 2 col 6, l'1 con l'8, me ne sono sempre sbattuto le palle, ho accordato il tamburo girando intorno a caso. Ecco, non mi si è mai rotta una pelle, non ho mai combinato disastri, quindi vabbè, insomma. E il rullante, in fin dei conti, come per tutto il drum set, arriva a un punto che hai le orecchie che sono talmente abituate al suono che vuoi che l'accordatura la trovano facilmente. Qualora non foste così rodati sulla cordatura a orecchio, ricordatevi sempre che a cordiera sganciata, disattivata, mettetevi il rullante sulle gambe e col ditino, in corrispondenza di ogni tirante, ascoltate che la nota, l'armonico che produce la pelle sia uguale, sia la stessa su ogni tirante. Se da una parte fa... e dall'altra fa... tirate l'una o abbassate l'altra. In questo modo trovate l'altezza del suono che più vi piace. E' servito sto video? Sembra di aver fatto un casino della madonna.